Credo che la giornata di oggi è una giornata storica dal momento che veniamo in un periodo di lockdown o di chiusura, quindi è un'occasione, un'opportunità che ci è stata data per lavorare in sinergia con i territori, per promuovere quello che è la nostra terra, la Romagna, ma anche la Toscana, e coniugare entrambe le cose, il lavoro di squadra è sempre quello più funzionale, credo sia la cosa più importante e tra l'altro noi a Forlì ospiteremo per i 700 anni di Dante l'anno prossimo nel nostro bellissimo museo di San Domenico la mostra, si sono accordati sia il direttore del nostro museo e il direttore degli uffizi dal prossimo marzo fino a luglio, quindi è una grandissima occasione per valorizzare soprattutto per un marketing territoriale importante. Credo sia una cosa importante, cioè il fatto che Toscana e Romagna sono due regioni comunque confinanti che hanno molte cose in comune, tra cui appunto Dante, e quindi credo sia importantissimo il fatto del lavoro sinergico, che si possa trovare una sintesi tra le due regioni per arrivare a un obiettivo, che è quello di valorizzare la storia, la storia di Dante, la storia che ci appartiene, la storia dei nostri antenati. Esattamente, grazie mille, buon lavoro.